Da US, US, avvigliamento di tendenza, l'avventura continua, cercalo nel centro commerciale della tua città, US, il fashion store di moda, musica e movimento, presenta Bello bello è quando c'è la disco parade, da ritorni a tutti su disco radio da parte di Marco Romani, c'è un nuovo appuntamento con la classifica delle 20 canzoni che più si esaltano allo studio, la più grande discoteca della Lombardia Ma mamma, torna nel tempo, preciso, classifica che va in Londra in corso di ogni weekend, il sabato alle 14, il sabato sera alle 21 e poi c'è la replica domenicale a partire dalle ore 3, anzi dalle ore 3, giusto, dalle ore 3, sono un po' inconcluso Dall'altra parte del vetro c'è Matteo Eppi, grazie anche a US Fashion Store, il nostro sposo, sette giorni fa al numero 3 c'erano gli Apple City Funko Movie or Buddy, al numero 2 Unconditional Magic Clips e al numero 1 c'era Malika con You Don't Know Malika E' una nuova entrata Si chiama Lara Come te amo 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 Grazie per la visione 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 So stand up Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Tra poco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti